carissimi fratelli e sorelle pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio benedica la vostra vita oggi ringraziamo il signore per questo nuovo giorno spero che stiate tutti quanti bene e leggiamo con l'aiuto del signore nell'epistola di giacomo al capitolo 1 ci soffermeremo sul verso 12 dove scritto beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il signore ha promessa a quelli che lo amano tra le situazioni umane e la pratica della nostra fede c'è sempre in mezzo la prova le difficoltà che dobbiamo superare e questa prova può farsi particolarmente acuta e risolversi addirittura in proposte che vanno in una direzione opposta contraria rispetto a quella che come cristiani dovremmo seguire la prova in queste circostanze diventa anche tentazione il credente deve guardarla e affrontarla con coraggio è una prova che se viene superata arricchisce e consolida la nostra fede portandoci verso il traguardo finale della corona della vita che il signore ha promesso a tutti quelli che lo amano e quindi fratelli sorelle consideriamo le circostanze della nostra vita e guardiamole con gli occhi della fede con gli occhi dello spirito alla luce della parola di dio perché appunto di prove di situazioni avverse ne affrontiamo di scappatoie facili da percorrere le tentazioni e ce ne verranno proposte ma noi come cristiani vogliamo invece non seguire gli stratagemmi e le strategie che il mondo ci propone ma vogliamo continuare a rimanere fedeli al signore anche quando questo può far perdurare la prova perché noi non abbiamo paura della prova perché siamo certi che nella prova il signore è con noi la storia notissima dei tre amici di daniele che si trovarono ad essere provati e che a causa della loro fedeltà perché loro vennero tentati basta che voi vi inchinate davanti alla statua e sarete libri e la prova finirà la loro storia ci dimostra come se è vero che rimanere fedeli a dio e non seguire gli stratagemmi di questo mondo può costarci addirittura la fornace nella fornace però noi troviamo il signore al nostro fianco ma se in quella fornace non vi addiamo noi non potremo avere il signore con noi perché ci ritroveremo ad essere fagocitati ingurgitati dal mondo e dalla mondanità allora coraggio fratello sorella amico caro che stai attraversando un momento di difficoltà e che sei come si dice oggi in un certo tipo di gergo giornalistico tirato per la giacchetta per andare in una direzione opposta all'insegnamento della parola di dio si fermo si fedele non lasciarti vincere dalla tentazione combatti nel nome del signore e si pronto eventualmente anche ad affrontare una prova più lunga e più dura stai tranquillo il signore ti aiuterà a non solo a rimanere gli fedele ma anche ad uscirne a testa alta e lì dovrai soltanto ringraziare il tuo dio e sarai debitore soltanto verso di lui e soprattutto non avrai il rimorso di aver tradito la tua fedeltà verso l'eterno sì perché poi quando noi ci lasciamo sopraffare dalle prove ci lasciamo vincere dalla tentazione non solo non possiamo parlare di una vittoria perché che vittoria è quando siamo stati sconfitti dalle nostre paure e dal peccato e dalla tentazione ma ci troviamo anche a vivere con il dolore del nostro cuore perché lo vogliamo ammettere o meno nello spirito ci rendiamo conto di aver tradito la nostra fedeltà di essere venuti meno al patto che abbiamo siglato allora quando siamo scesi nelle acque battesimali la soluzione c'è quella di pentirsi di ravvedersi perché dio ancora oggi perdona i peccati di quelli che si pentono e che vanno ai piedi del signore per essere lavati e purificati ma perché dover vivere un momento di dolore di angoscia e non continuare invece ad avvertire la presenza di dio fin anche nella fornace ardente in modo da uscirne sciolti da ogni legame sì perché i tre amici di daniele in quella fornace vidono i legami che gli erano stati messi addosso bruciati da quel fuoco senza che loro ne subissero alcun danno sì perché poi la prova in fin dei conti è qualcosa che distrugge gli ultimi residui o gli altri residui della nostra vecchia natura e ci permette così di essere raffinati ed essere preparati per poter servire in un modo ancora più pieno più convinto più meraviglioso il nostro amato salvatore e non solo l'essere purificati per mezzo della prova ci garantisce che noi riceveremo la corona della vita che il signore ha promesso a tutti quelli che lo amano sì perché per amore si è pronti anche a soffrire e questo lo sappiamo nella vita sociale nel rapporto che abbiamo col coniuge con i figli e con i propri genitori quante volte arriviamo a fare cose che mai faremmo per nessun'altra persona lo facciamo perché amiamo i nostri figli amiamo il nostro coniuge amiamo i nostri genitori e allora amiamo anche il signore più di noi stessi più dei nostri familiari più di ogni cosa di questa terra e se è necessario dalle volte soffrire non preoccupiamoci perché è meglio soffrire per il signore e con la presenza del signore accanto a noi che puoi soffrire in questo mondo abbandonati da tutti perché il mondo che oggi ci illude ci attrae poi ci lascerà noi stessi senza più nessun aiuto e senza più nessuna vicinanza ve lo ricordate la storia del figlio al prodigo di questo giovane che va a sperpera tutti i suoi veri e quando ha sperperato tutto si ritrova ad essere nella miseria abbandonato ad ogni persona a desiderare di mangiare i baccelli e dei maiali che lui pascolava senza che nessuno gliene desse questa è la fine di quanti si lasciano vincere dalla tentazione e si lasciano soffocare dalla prova ma noi siamo figli di dio per grazia e siamo a conoscenza delle astuzie del nemico e non vogliamo lasciarci sopraffare da esse ma nel nome del signore vogliamo vincere per poter portare avanti la bandiera dell'evangelo ed essere con cristo un giorno nel cielo e godere con lui per l'eternità che signora ancora oggi ci aiuti nelle prove e nelle tentazioni a uscirne vittoriosi alla loda e gloria di cristo gesù che benedetti in eterno